Siamo nel cuore dell'Arena Garibaldi con Claudio Gavina che oltre ad essere responsabile della logistica è anche il padrone di casa in assoluto di questo spazio. Trasferta lunga, si vanno share a Claudio e c'è da preparare una vera e propria valigia. Si vuole preparare un po' di roba, come vedi, oltretutto facciamo un allenamento là quindi dobbiamo portare via partita e allenamento. Questo è già il materiale pronto per i ragazzi? Una parte della partita di domenica che Itana ha già preparato e già da fini di completare. Aspettiamo solo i convocati. Quindi in questo gruppo di materiale cosa viene messo a ogni calciatore? viene messo la felpa per il riscaldamento, slip, maglia da canne, calzettoni per la partita, maglia termica chi la vuole. Ognuno ha le sue esigenze poi. Poi nel frattempo abbiamo preparato anche l'allenamento per sabato che è già tutto pronto. Quindi in questo sacchetto giocatore per giocatore il materiale per l'allenamento. Ora aspettiamo i convocati, le borse sono già nel corridoio, mettiamo tutti ognuno nelle borse. Mentre nei bauli... Ci trasferiamo proprio lì, andiamo a vedere. E questo è il corridoio dell'Arena Garibaldi, con le borse già pronte, i cassoni già pronti. Domattina la partenza penocera, Claudio ci dicevi, andranno preparati anche i bauli? I bauli, come vedi, c'è già le maglie della gara, c'è già le maglie della gara nera azzurri, qui tutta roba di ricambio, giacconi, tacchetti, questi due bauli vengono caricati sul pulma. E poi la roba che ha visto prima, vediamo messa ognuno in ogni borsa, che i ragazzi completano con le scarpe, il beauty, la roba personale e pronti per la partenza. Qual è la cosa più richiesta dai calciatori nera azzurri? La maglia della salute? Un calzino particolare? Ecco, un po' quello che ti viene... Durante l'allenamento settimanale hanno la sua maglia termica, perché ora serve, è freddo e cosa. Poi prendono, non hanno grosse esigenze. C'è la muta, c'è i nostri colori, prendono cosa... Non sono tanto esigenti. Certo è che in un girone come quello che ci è toccato quest'anno, il lavoro per te e per gli altri ragazzi del magazzino non è dei più semplici. No, no, non è dei più semplici, bisogna sempre stare al pezzo, essere pronti, pronti a partire, pronti... Ecco, il lavoro che richiedono per di più le scarpe da calcio, prepararli le scarpe, i tacchetti... E anche quello poi un giorno andremo a scoprirlo. Un giorno. Intanto, buon viaggio e in bocca al lupo per Nocello. Grazie, grazie per il lupo.